Assessore, venerdì prossimo c'è questa serata che vedrà protagonisti i bambini. Sì, rientrerà nelle varie iniziative che sono state programmate per il Natale. Questo in modo specifico sarà rivolto ai bambini, così come anche la serata del 19. Un'attenzione particolare è rivolta quest'anno ai bambini perché lo spirito natalizio soprattutto deve essere vissuto bene da loro. Anche questi presepi proprio creati dai bambini dimostrano come anche le insegnanti hanno mostrato tanto interesse nei confronti dei bambini. Essere loro gli artefici di questi presepi significa renderli protagonisti del Natale. Assessore, come si articolera la serata e soprattutto cosa prevede? Allora, intanto la serata è dedicata un po' al mettere a conoscenza la cittadinanza di quelli che sono i progressi nei lavori della struttura di Don Ignazio. Ma poi sarà allietata da momenti musicali i cui protagonisti saranno proprio i ragazzi.